Musica Processi pilotati in cambio di regali giudice nei guai a Salerno si indaga su un magistrato accusato di corruzione e associazione per delinquere. Si ipotizza l'esistenza di un comitato d'affari per aggiustare le sentenze. Referendum dei magistris né vinti né vincitori, caduti nel vuoto gli appelli del sindaco contro le trivelle, i napoletani hanno snobbato le urne. Ma il primo cittadino chiarisce, non ci sono sconfitti in questa battaglia, campagna penultima per votanti. L'assalto al portavalori finisce nel sangue, terrore tra la folla a Napoli, sparatoria nel corso della rapina, tre feriti. C'è stato un conflitto a fuoco che ha scatenato il panico tra i passanti nel quartiere di Secondigliano. I banditi in fuga con il bottino. Sanità nel caos, torna la rivolta contro i tagli. Giù le mani dall'ospedale, migliaia stamane in piazza di Torra Annunziata contro i nuovi tagli dell'ospedale di Bosco Trecase. Davanti la regione la protesta dei centri per la riabilitazione. Benevento, settimo candidato a sindaco, si allunga l'elenco degli aspiranti alla successione del sindaco Pepe. In campo anche Federica De Nigris, 29 anni, consulente amministrativo con un passato in Amnesty International. Bonifica isochimica, Foti chiede aiuto a Cantone. Il sindaco di Avellino ha presentato il progetto per risanare la fabbrica dei veleni che ha causato decine di morti tra gli ex operai. SOS al presidente dell'anticorruzione per tenere lontana la camorra. Buonasera, ben ritrovati con la nuova edizione del nostro Tg. Aggiustava i processi a favore di imprenditori. Indagato per corruzione un magistrato di Salerno. Il blitz questa mattina ha a casa di otto persone, tra cui avvocati e cancellieri. Un vero e proprio gruppo di potere che pilotava le sentenze del Tribunale. Ed ora interviene il CSM. Rossella Strianese. Trema il Palazzo di Giustizia di Salerno. Il magistrato Mario Pagano è accusato di corruzione in atti giudiziari. Il blitz della squadra mobile è scattato all'alba su ordine della Procura di Napoli. Le indagini sono coordinate da IPM Celeste Carrano e Ida Frongillo. Il pool, coordinato da Alfonso Davino, ha avviato le perquisizioni anche in commissione tributaria a Salerno in una inchiesta che punta a verificare l'esistenza di un gruppo di potere organizzato per condizionare lo svolgimento di processi in cambio di regali e altre utilità. Otto in tutto le persone indagate, di cui quattro avvocati e un cancelliere. Secondo IPM, Pagano, già trasferito presso la sede di Potenza, avrebbe aggiustato i processi tributari a favore di alcuni imprenditori. Nei loro confronti si ipotizzano a vario titolo i reati di associazioni a delinquere, corruzione e accesso abusivo a sistema informatico. Per il giudice anche abuso d'ufficio e millantato credito, nonché traffico di influenze illecite. Secondo l'accusa, Pagano avrebbe ricevuto utilità in cambio di provvedimenti giudiziari favorevoli ad alcune imprese locali. Nel corso delle perquisizioni, cui ha partecipato anche la Guardia di Finanza, sono stati sequestrati documenti definiti interessanti. L'inchiesta si basa su alcune intercettazioni telefoniche. Tutto è partito da un giro di usura nell'agro nocerino sarnese. Pagano, parlando con un cognato cancelliere, fa anche riferimento a svariate raccomandazioni per esami universitari ed esami di avvocato. I due si scambiano notizie su alcuni procedimenti giudiziari in corso. Sul caso ora potrebbe intervenire il CSM. Il consigliere di Forza Italia, Zanettina, ha infatti chiesto al Comitato di Presidenza l'apertura di una pratica in prima commissione. Se il vertice di Palazzo dei Marescialli darà il via libera alla richiesta, la commissione incaricata dovrà accertare se vi sono i presupposti per un trasferimento d'ufficio del giudice sotto inchiesta. Il Tribunale dei minorenni rischia di sparire. Parte dagli avvocati e dai magistrati di Napoli il no all'accorpamento. Vediamo. Magistrati e avvocati sono in allarme. Un disegno di legge passato alla Camera che attende ora la valutazione del Senato prevede l'abolizione del Tribunale dei minorenni e l'accorpamento in una non ben precisata sezione famiglia del Tribunale ordinario. La levata di scudi della classe forense arriva nella stagione criminale segnata dall'avvento dell'apparanza dei bimbi e dall'abbassamento dell'età di chi consuma delitti. Un caso nazionale dettato da esigenze economiche che trova a Napoli una cassa di risonanza significativa se si considerano i numeri del Tribunale dei Colli a Minei. Ogni anno sono iscritti in media 3.000 procedimenti penali e 1.800 sono invece le cause civili. Se ne è parlato in un convegno dal titolo Perché no all'abolizione del Tribunale per i minorenni organizzato dall'avvocato Mario Covelli, presidente della Camera Penale Minorile. Noi riteniamo che le sezioni specializzate non possono assicurare la tutela effettiva del minore e il recupero del minore che ha delinquito soprattutto perché non hanno né l'esclusività delle funzioni in relazione alla procura né l'esclusività delle funzioni in relazione al secondo grado di giudizio e ci sarà un depotenziamento del personale di magistratura, cancelleria e così via per cui il minore non viene più recuperato. Credo che sia una cosa molto pericolosa perché fa perdere tutta quella che è una cultura una modalità di attuazione delle norme e di difesa e di tutela dei minori in un mondo che ha altri interessi e si muove in altre logiche. E Far West a Napoli assaltato un furgone portavalore i due vigilantes sono stati feriti la rapina è avvenuta in pieno giorno tra la folla e i malviventi in fuga con il bottino. Scene da Far West questa mattina a Napoli colpi di pistole, fucili, esplosi e tre feriti. Questo è il bilancio dell'assalto al portavalore avvenuto in via Sant'Andrea Vellino nel quartiere di Secondigliano. I rapinatori sono entrati in azione intorno alle 10.30 con due vetture. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti del commissariato di Secondigliano i malviventi hanno intercettato le due auto sulla rotonda all'angolo di via Flavio Gioia parecchi chilometri prima del luogo dove poi è scattato il ride. Da qui è cominciato uno spericolato inseguimento durante il quale sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Le due vetture dell'istituto di vigilanza sono state colpite su entrambi i lati. Secondo quanto si è appreso il vigilante ferito viaggiava da solo nella vettura dove erano sistemati soldi. L'altro vigilante, anche lui da solo era a bordo dell'altra panda e svolgeva mansione di scorta. Proprio quest'ultimo è stato ricoverato nell'ospedale Cardarelli della città con una ferita in testa provocata da un colpo con il calcio di un fucile. Un altro rischia la perdita di un occhio ed è ricoverato in ospedale in codice rosso. Quest'ultimo ferito ha anche un colpo d'arma da fuoco di piccolo calibro al braccio destro che lo ha raggiunto di rimbalzo. Dei malviventi dopo il colpo nessuna traccia. Complessivamente sono riusciti a portare via 26.580 euro. Referendum. La Campania si è confermata terra di astensione. Caduti nel vuoto gli appelli del sindaco di Napoli contro le trivelle. I cittadini hanno snobbato le urne ma De Magistris chiarisce non ci sono sconfitti in questa battaglia. Vediamo. Il quorum si ferma al 32%. Il referendum anti-trivelle è un flop salvi gli impianti delle compagnie petrolifere ma resta il divieto entro le 12 miglia per le nuove concessioni. Ora l'attenzione si sposta sulle amministrative. A Napoli non c'è stato l'effetto DEMA con il sindaco fortemente schierato per il sì. I suoi appelli sono stati snobbati dagli elettori. Addirittura Napoli con il 25,6 è ultima nella classifica delle grandi città. Questo referendum si era capito perfettamente che andava in queste direzioni e non vedo né uno sconfitto né un vincitore. Perché se uno fa un'equazione molto semplice alla gente dice perché il territorio venga distrutto o venga mantenuto si raggiungeva il 90%. Interroghiamoci come mai evidentemente l'informazione non è arrivata come dove arrivare i quesiti referendari sono scritti in modo complesso vengono fatte le elezioni in un giorno particolare non vengono accorpati la comunicazione è fatta in un certo modo ma volere adesso sul referendum dove almeno noi avevamo previsto che finisse così e che abbiamo esercitato il nostro dovere di andare a votare abbiamo votato convintamente per il sì dire che ha vinto Renzi o piuttosto ha perso Emiliano ha vinto Tizio ha perso Sembronio secondo me è una lettura politica veramente sbagliata completamente sbagliata. Salerno invece non ha tradito il governatore De Luca che aveva seguito Renzi sulla linea dell'assenzione definendo il referendum una palla battuta che gli costerà una denuncia in procura firmata dall'avvocato Agosto vicino a 5 Stelle la percentuale in città è stata del 33,59 leggermente inferiore a quella di Avellino 35,21 prima in Campania a seguire Caserta 31,29 e Benevento 30,93 la Campania si conferma terra di assensione è penultima come percentuale di votanti precisamente hanno votato il 26,13% degli aventi diritto il popolo notrive dunque resta solo virtuale anche a Napoli dove per una volta Gianni Lettieri che ha votato sì si è ritrovato sulla stessa sponda di De Magistris ma il candidato sindaco del centrodestra affiancato da Mara Carfagna ha rilanciato dal rione Don Guanella la sua sfida per il comune di Napoli bisogna iniziare proprio da queste zone che sono state abbandonate a se stessi in questi 5 anni nessuno ci è mai venuto tranne in questo periodo per fare campagna elettorale il problema è che gli altri pensano alle prossime elezioni per cui vengono qua perché pensano alle prossime elezioni io penso alle prossime generazioni perché non voglio fare il politico penso a mettere a posto la mia città giù le mani dall'ospedale a torre annunziata cittadini in piazza per protestare contro la chiusura del reparto di ginecologia del Sant'Anna e Maria Santissima della Neve di Bosco Trecase vediamo una manifestazione pubblica a sossegno della salute quella organizzata da sindacati e comitati cittadini per impedire la chiusura del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Bosco Trecase Sant'Anna e Maria Santissima della Neve disposta dall'asla Napoli 3 Sud a partire dal prossimo 20 aprile centinaia di cittadini si sono radunati davanti allo stadio giro di torre annunziata da qui si è mosso il corteo che simbolicamente è giunto fino a piazza Cesaro dove sorgeva il vecchio ospedale civile è un problema che riguarda non solamente la città di torre annunziata ma tutti i comuni che fino ad oggi hanno potuto godere di soffrire dei servizi dell'ospedale di Bosco Trecase quindi come cittadino ma anche come sindaco per fare di tutto affinché questo ospedale possa continuare ad esistere sul territorio a dare le risposte che fino ad oggi ha dato le scelte politiche a volte possono essere precise ma in questo caso praticamente sono scelte sono del tutto sbagliate dettate secondo me solamente da un vero e puro creditorismo che forse negli anni o nei mesi che ci seguiranno ci diranno il perché di questa scelta in fassa è una struttura nuova perché abbandonarla se ci sono problemi possiamo migliorarla possiamo ristrutturare delle parti magari che stanno un po' aumentare i macchinari le attrezzature ma non abbandonarla soprattutto anche per uno spreco di denaro è una mancanza di numeri per una mala sanità quindi si dovrebbe investire molto di più nel pubblico per dare l'opportunità anche a chi non ha opportunità di poter spendere soldi nel privato di poter partorire in maniera sicura sospetto caso di meningite in campania l'ultimo in ordine di tempo vede coinvolto un bimbo di 4 anni di Angri in provincia di Salerno il piccolo è stato ricoverato prima l'Umberto I di Nocera Inferiore poi trasferito al Cotugno di Napoli dove sotto stretta osservazione da parte dei medici il bimbo era stato ricoverato lo scorso sabato con febbre alta e dolori dopo gli accertamenti è stato disposto il trasferimento nel capoluogo partenopeo presso il nosocome onocerino poi è scattata la profilassi per i pazienti e tutte le persone entrate in contatto con il bambino e adesso andiamo a Napoli centri di riabilitazione e convitto della campania in rivolte disabili in piazza l'assistenza è a rischio vediamo infermieri operatori disabili del centro di riabilitazione della campagna si sono dati appuntamento in mattinata in via Santa Lucia per protestare davanti alla sede della regione campania i motivi della mobilitazione sono il taglio dei fondi e dei budget stanziati per i vari settori della riabilitazione dopo diverse ore di protesta una delegazione di categoria è salita dal presidente Vincenzo De Luca per chiedere un adeguamento dei fondi assegnati al settore e un presto accordo in particolare è stato chiesto l'annullamento per i centri di riabilitazione del tetto del 30% per le prestazioni domiciliari l'annullamento del budget mensile del tetto di struttura e di rendere possibile il travaso di risorse a livello delle singole ASL tra prestazioni riabilitative e sociosanitarie l'invito ai commissario è inoltre quello di considerare tra le priorità il dialogo con le famiglie sulle quali pesano quotidianamente gravi problematiche sanitarie e sociali e che si vedono costrette a manifestare per difendere i propri diritti stiamo chiedendo innanzitutto il valio reale di quello che è il bisogno della regione campagna il bisogno di assistenza perché non corrisponde a quanto loro insomma hanno visto e soprattutto stiamo chiedendo che vengano adeguate a questo nuovo bisogno i tetti che sono stati dati alle strutture tutto questo per evitare che si blocchino come sempre le terapie a metà anno perché si riduce sempre anno per anno Arriva all'ufficialità Federica De Nigris è la settima candidata alla carica sindaco a Benevento fa parte di una lista civica denominata Fa Bene intanto Tipaldi e De Vecchio rispondono a Mastella dopo la contestazione di cui l'ex guardia Sigilli è stato oggetto all'inaugurazione del suo comitato elettorale a Rione Libertà il servizio è di Andrea Caruso Sarà una corsa a sette per Palazzo Mosti Federica De Nigris è l'ultima in ordine di tempo ad aver ufficializzato la propria candidatura per la poltrona di sindaco di Benevento correrà sotto le insegne di una civica denominata Fa Bene raggruppamento espressione di movimenti e associazioni e che annovererà in lista anche il consigliere uscente Mario Zoino De Nigris è anche la più giovane tra i sette aspiranti alla fascia tricolore 29 anni ha già all'attivo la militanza in sinistra ecologia e libertà e un passato di attivista per la ONG Amnesty International Fab che sta per fabbrica sta anche per Fab Lab quindi luogo di impegno luogo di lavoro luogo di anche sviluppo delle creatività a servizio della città e dall'altro lato Bene che sta per Benevento sicuramente ma sta anche per attenzione ai beni comuni e attenzione al buon governo della città Schermaglie della campagna elettorale beneventana sempre a corollario della contestazione con cui il movimento di lotta per la casa ha disturbato l'inaugurazione del comitato elettorale a rione libertà di Clemente Mastella Raffaele Tibaldi Bacchetta l'ex ministro della giustizia non può prendere le distanze come Ponzio Pilato la colpa è anche sua dichiara il candidato di Benevento Polo Civico la cuirsi dello scontro sociale in città è conseguenza della giunta di Fausto Pepe che è una sua creatura politica rincara la dose Raffaele del Vecchio amministrare significa affrontare tensioni problemi e pressioni Mastella non può immaginare di fare il sindaco girando per la città con il suo codazzo l'ex eurodeputato intanto domani riunirà l'annunciato comitato di saggi e accademici che collaboreranno alla redazione del programma di mandato e dietro le quinte lavora per incassare altri sì per la sua avventura elettorale ultimo nome ad aver dato assenso sarebbe quello del consigliere d'opposizione uscente Luigi De Minico protestano i cittadini di via tedesco ad Avellino dove è stata installata un container della ditta che seguirà i lavori della metro leggera vediamo metropolitana leggera protesta senza fine oltre la selva di Palinghisa che attraversa una città c'è la rivolta di via tedesco per la sistemazione di una cabina per l'elettrificazione del percorso l'esasperazione alle stelle madri e figli sono pronti alle barricate e presidiano il cantiere per bloccare i lavori sono arrivati anche i vigili urbani per riportare la calma ma le mamme sono pronte a tutto sono arrivati all'improvviso a mettere questo proprio fabbricato perché devono mettere la metro leggera però noi ci hanno detto che è semplicemente un box per gli operaci queste qua sono due o tre anni che le hanno messe adesso le hanno messe in funzione per mezzo della metro ciò non ci stanno a gioco la pulizia non se ne vede proprio sono ragazzi che stanno tagliando l'erba e guardate la che è bacia che c'è dalle batterie della macchina diciamo a pezzi proprio di auto di tutto di tutto ci voleva solo la cabina per chiudere in bellezza protestano anche i bimbi in via tedesco che raccontano di pomeriggio ad alto rischio in un rione abbandonato tra degrado sporco e tanti pericoli non possiamo giocare perché è abbandonato vogliamo l'erba tagliata non c'è un palco giochi passano macchine dopo se va il palone mezzo della strada dopo ci buttano sotto per andare a prenderlo pare una zezza questo rione già abbiamo tante cabine qua a tutti i rioni viene fatto un gesto di carità invece qua no qua è tutto distrutto in estate arrivano serpi di tutto dobbiamo stare per forza sopra qua e non possiamo approfittare di un'estate è una realtà invivibile siamo stanchi abbiamo deciso di fare realmente la guerra colpo al clan Belforte arresti misure cautelare e sequestri per 5 milioni di euro tra Marcianese e Capodrise nel regno dei Mezzacane dove i pentiti raccontano gli affari del clan tra droga usura e appalti vediamo Camorra colpo al clan Belforte con un'operazione congiunta della DDA e Guardia di Finanza l'operazione Dynasty è scattata nei comuni di Capodrise e Marcianese con tutta una serie di perquisizioni nella notte eseguita un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 6 persone 4 in carcere e 2 ai domiciliari i reati contestati sono usura estorsione riciclaggio abusivismo finanziario trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso si tratta di un giro imponente di usura tra atti di intimidazione e minacce continue altissimi gli interessi imposti in una spirale perversa e violenta che ha portato le vittime sul ciglio del fallimento proprio le persone nel mirino del giro del racket hanno raccontato di decenni di violenze sulla base dei dati raccolti è stato quindi dettagliatamente ricostruito il giro d'affari basato su interessi usurai applicati che in alcuni casi hanno superato la soglia del 120% secondo quanto raccontato dai pentiti i mezzacane gestiscono le estorsioni ai danni degli imprenditori e commercianti del posto controllano il traffico degli stupefacenti si infiltrano nelle attività imprenditoriali o costituiscono vere e proprie società con imprenditori compiacenti agevolati nella concessione degli appalti tra tangenti e usura sequestrati beni per 5 milioni tra cui figurano villette con piscina e auto di lusso è finito in manette tra gli altri Roberto Trombetta padre di un ex consigliere comunale non fate morire il maglificio di 15 il drammatico appello dei lavoratori che non percepiscono lo stipendio da novembre chiedono al prefetto di Avellino un incontro per capire dove sono finite le commesse promesse vediamo sette mesi fa il taglio del nastro Don Ciotti che benedice l'avvio delle attività nella villa del Bos Graziano trasformate in un'azienda primo esempio in Irpina di come sia possibile riconvertire socialmente un bene confiscato e clan oggi però il maglificio di 15 rischia già di chiudere le commesse non arrivano i fornitori non sono stati pagati non è stato liquidato nemmeno chi si è occupato di formare il personale già il personale è questa la vera nota dolente se non addirittura drammatica dell'intera vicenda gente selezionata per lavorare full time ma che poi è stata contrattualizzata part time gli stipendi chi l'ha visti l'ultimo che poi sarebbe il primo ed unico risale al novembre scorso da allora i setti lavoratori oggi diventati 5 perché due già si sono licenziati proprio per ragioni economiche non hanno percepito un solo centesimo inevitabile l'amarezza che presto potrebbe sfociare in scontro e polemica rosanna caliendo portavoce dei lavoratori del maglificio 115 passi lancia un appello al prefetto di Avellino e alle altre istituzioni che hanno promosso l'iniziativa da una settimana non andiamo a lavorare nel maglificio intitolato ad una vittima innocente di camorra lo stato dove è finito della maglieria tecnica per le forze dell'ordine perché non se ne farla più non facciamo morire non si antiscibelli per la seconda volta segue poi la proposta il prefetto affidi la gestione del maglificio di un'azienda affermata nel settore salvaguardiamo almeno il simbolo altrimenti il maglificio è già finito e con esso il nostro sogno il sogno di chi ha creduto nello stato rischiando la propria vita ma che ora non può più comprare il pane ai propri figli è il progetto più grande mai realizzato dal comune nel dopo terremoto il sindaco Foti ha presentato questa mattina la bonifica dell'ex isochimica la dedico ai morti della fabbrica chiederò l'aiuto di Cantone per tenere lontana la camorra chiederò l'assistenza dell'anticorruzione di Cantone per tenere lontana la longa manus della camorra dalla bonifica dell'isochimica il sindaco di Avellino Paolo Foti vuole bruciare le tappe dopo l'approvazione in giunta del preliminare oggi ha presentato i dettagli del progetto con l'assessore all'ambiente Augusto Penna nei prossimi giorni solleciterò il ministro dell'ambiente per accelerare sui decreti attuativi in modo da sbloccare i fondi questo è un intervento che è patrimonio della città è uno dei più grandi interventi dopo la ricostruzione il più grande intervento dopo la ricostruzione post-sisma fondamentale per gli interessi cittadini e per la salute pubblica della nostra comunità un crimine quello dell'ex isochimica la bonifica una sorta di risarcimento alle famiglie dei lavoratori morti bonificare l'isochimica è un atto di riparazione ad un crimine ad un crimine ambientale e contro la salute dei cittadini e la salute dei cittadini che è stata toccata più di più che altre per i morti dell'isochimica e per le patologie evidenti incalzanti che molti altri operai purtroppo si portano dietro ci vorranno 5 anni e quasi 13 milioni di euro tre le fasi dell'intervento la rimozione dei cubi quella dei vari rifiuti presenti nell'aria e infine la demolizione dei prefabbricati pensare adesso di poter fare qualcosa di importante di utile dove c'era invece un luogo di malattia e di disperazione è secondo me la soddisfazione più grande che un amministratore possa avere Cella Rulo e Contrada Pantano sono due Contrade di Beneventi in cui il disastro provocato dall'alluvione di Semisifà c'è ancora e c'è ancora tanta paura perché il letto del fiume è completamente intasato Cristiano Vella l'unica cosa che è cambiata è che fa caldo il sole batte forte e quel fango in cui prima si affondava ora è solido secco ma è ancora tutto lì l'alluvione dopo sei mesi sembra non esserci stata passeggiando per il centro tra le bellezze di Benevento ma basta spostarsi un po' il parco Cellarulo doveva essere un fiore all'occhiello della città è devastato tra mura sfondate opere crollate e fango ovunque più in là a Pantano stesso scenario ma non solo il fiume fa paura oggi i nubi fragi sembrano lontani ma il letto è pieno di alberi piante che andrebbero a costruire un ostacolo serio un tappo che in caso di nuove piogge rappresenterebbe una bomba pericolosissima e gli abitanti lo sanno qui non è cambiato molto perché da come si vede si può dire che come era è è cambiato solo che dall'ultima volta c'era qualche pianta ancora verde adesso invece si vede il disastro che comincia a prendere le sue dimensioni perché le piante praticamente stanno completamente andando a morte la realtà è che il fiume con gli alberi di velti che stanno i salici e pioppi che stanno coricati quelli adesso incominciano la vegetazione praticamente in autunno avremo migliaia di mini alberi pronti a fare da diga da diga naturale faranno tante di quelle altre dige e quindi il disastro potrebbe essere ancora più grande di quello che si è verificato se non si prende provvedimento saremo veramente nei guai fumata nera per federica vozzella alla presidenza della camera di commercio di avellino nella seduta del consiglio per lei solo 12 voti se ne riparlerà venerdì il consiglio della camera di commercio di avellino si spacca sull'elezione del nuovo presidente sembrava fatta per il nome di federica vozzella azionista di maggioranza della desmon già la prima votazione e invece c'è stata la fumata nera la vozzella ha raccolto solo 12 preferenze sui 27 votanti 6 schede bianche una nulla gli altri 8 voti a pannaggio di ciriaco coscia candidato di cna e confesercenti che avevano promosso il ricorso contro il quarto mandato del presidente uscente Costantino Capone e che chiedono un cambio di rotta dell'ente camerale il problema è di capire che cosa si vuole fare se si vuole continuare su una operazione che ha visto mettere nell'angolo alcune organizzazioni oppure si vuole tutte insieme dare una risposta adeguata ai bisogni di questa provincia visibilmente contrariata la vozzella non ha voluto fermarsi ai microfoni al termine della votazione che ora è stata aggiornata venerdì servirà ancora la maggioranza qualificata dei votanti solo al terzo scrutinio sarà sufficiente la maggioranza semplice sullo sfondo la scadenza del 30 aprile data entro la quale la camera di commercio deve approvare il bilancio pena il commissariamento e l'ormai inevitabile accorpamento con la camera di commercio di Benevento fusione alla quale ammonisce Costantino Capone sarebbe una iattura arrivare con l'ente commissariato forse la rottura di una colonna fecale oppure una falda in risalita fatto sta che nel pomeriggio in piazza Portanova a Salerno i liquami hanno rovinato uno dei luoghi simbolo della città Giovan Battista Lanzilli Le telecamere di SOS Città arrivano oggi a Salerno siamo in particolare a piazza sedile di Portanova una delle vetrine della città qui lo ricorderete durante il lucido artista viene installato un albero che è una delle cartoline uno dei simboli della città quando non c'è lucido artista è uno dei luoghi di ritrovo principali per Salerno lo vedete anche nonostante sia un orario pomeridiano di un lunedì ci sono tantissimi il passeggio è davvero molto affollato e ci sono tantissime persone che lo percorrono ci hanno segnalato alcuni commercianti della zona questa fuoriuscita probabilmente di una colonna fecale con dei cattivi odori e materiale organico che si è sollevato dalla caditoia e che è affiorato in superficie è inutile raccontarvi del cattivo odore qui proprio in piazza Portanova qualcuno addirittura per qualche minuto ha ritenuto opportuno chiudere le proprie finestre però allo stesso tempo va segnalato anche il tempestivo intervento da parte della macchina comunale una volta scattate le segnalazioni dei residenti e dei commercianti i tecnici sono prontamente intervenuti abbiamo intervistato un geometro appunto di palazzo di città per capire quale fosse il problema noi abbiamo controllato tutte le fognature della zona sono perfettamente funzionanti le caritoie sono perfettamente funzionanti solamente se ha avuto questa fuoriuscita di acqua per una questione di una mezz'oretta poi è rientrata però non sappiamo la natura reale di quest'acqua che è affiorata qui in piazza Portanova ma non sappiamo precisamente che cosa sia successo speriamo che sia un problema di un'altra natura e non della falda speriamo e termina qui questa edizione del TG io vi ringrazio di averci seguito e vi lascio al TG Sport Grazie a tutti